bentornati ss arezzo tv siamo qui a ridosso del castro buonasera beppe ciao ciao l'altra settimana o due settimane fanno eravamo di là al monumento dell'eccidio dei martiri mulinaccio martiri del mulinaccio e avevamo già notato dall'altra parte che c'erano dei rifiuti qui a ridosso del castro effettivamente questi portati dal vento tra una rete anche molto bassa non so perché è così bassa questa rete lo so sinceramente la posata che comunque forse era più alta poi fatto riporto è rimasta più bassa la sfilza di rifiuti il fiume mezzo ai rovi e rifiuti e carte su carte d'estate noi eravamo tutti qua a giocare lungo risponde di questo fiume che era bellissimo pulitissimo qui c'era la bella pastorella di legno che attraversava il castro e poi andavamo giù e qua giù c'era una fontina d'acqua fresca e con un prato intorno eravamo sempre tutti qua giù a giocare l'estate il nostro luca ha deciso di incunearsi qua della giungla come potete vedere allora abbiamo trovato una signora signora qui è tutto questo sporco qui ah no è una bellezza è una goduria proprio è il massimo che si possa vedere ma è da tanto tempo che così è sempre così è sempre stato così e anzi sempre peggio ma non è venuto nessuno ma che è venuto mai ma se li chiami non c'hanno i soldi e quindi la sei qui dovrebbe pulire qualcosa ma non è la sei qui io credo che debba intervenire il comune per quanto riguarda oppure anche il comune deve intervenire la provincia e la provincia dove scuse oppure la provincia oppure il come si chiama il nuovo ente il consorzio non è un fosso questo è il fiume quindi la provincia è l'ente di bonifica scusami abbi pazienza non è competenza ma nel castro questo qui ma il fiume non è competenza dell'ente bonifica ma della provincia non c'è più ma che c'è la provincia allora se la competenza provincia non c'è la più sono passata la regione quindi deve intervenire la regione quindi da firenze vediamo venire qui guarda no ma figurati non fanno niente da qui figurati se vengono da firenze ma ti hai visto un bel film alla radio in bianco e nero è ottimista no ragazzi oramai sono troppi anni che sto qua giù quindi lo so ma la sai che fa i cittadini di tempo liti no 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 ha detto che non è competenza loro ma è del comune dell'ambiente l'ambiente dice che è il compito della sei allora spiegatemi di chi è il compito di svuotare questi cittadini e dei cittadini che passano di lì che devono provvedere a tirarli fuori e buttarli dei bisogni a spazio pure oltre che pagare bisogna fare anche quel lavoro lì sempre quindi anche se sono della mentele per quanto riguarda la sei anche non è commissariata lo dico a te sì ancora no hanno chiesto l'anac ha chiesto il commissariamento la proposta di commissaramento ma ancora non è commissariata comunque ascolti la colpa maggiore io penso che sia anche di noi cittadini è vero la principale siamo noi perché io non posso pretendere che una persona mi venga dietro dietro a raccattare quello che butto per terra quindi se non si parte dai giovani dai ragazzi da noi stessi a voler bene alla nostra città è tempo perso scusate è tempo perso purtroppo è così ti ricordi siamo andati settimana scorsa in via morgani se ci ripassi oggi guarda è uguale e comunque anche gli operatori io parlo anche per un'altra cosa ci sono i dirigenti negli uffici ambiente sei e compagnia ma invece di stare dietro a quelle scrivanie ma perché vanno un po' in giro a vedere gli operatori cosa fanno come si comportano ma perché non ci vengono una volta io mi ricordo ai tempi del vecchio sindaco ducci erano altri tempi è capito però prendevano la motorino la bicicletta e andavano a vedere come spazzavano gli spazzini ragazzi ma ora non gli si può di niente perché oggi non si può di niente a nessuno guai hai visto benissimo quelli che marchano i cartellini ecco fatto e nonostante ci sia una legge adesso che è il licenzamento immediato sì ma io mica licenzierei loro i dirigenti io manderei a casa non sono capace a gestire le cose vai a casa non sei capace a fare il dirigente va bene grazie signora qui purtroppo la situazione la situazione è come potete vedere è quello è quello che è sporca da tutte le parti rovi non tagliano neanche i rovi è lo stato di abbandono completo poi quando piove e quando piove va bene dal castro dal castro e dalla situazione è veramente come vedete no la drammatica però pensa è drammatica però però pensa cosa pensa a quei signori ti chiamano ti stanno chiamando hai ricercato pensa a quei signori che fanno l'orto lungo le rive del castro e qui è pieno e annaffiano con quest'acqua piena di sudicio di detersivi l'estate è lurida ne sai con cosa annaffiano scusi te lo dico io annaffiano con quella vabbè vabbè contenti loro abbiamo voluto aggiungere un nuovo motivo di riflessione grazie di questa sempre riflessione che ci fai venire ci vediamo domani pensavo tu dicesi grazie di questo incontro no grazie ciao ciao